Ben ritrovati per il notiziario sportivo del TG Noi, apriamo con il calcio e torniamo sulla bruciante sconfitta della Lucchese a Teramo. Che dire, hanno fatto un tiro, questo di tal Codromatz e hanno vinto. La settimana scorsa invece si era espresso così, chi non fa gol non vince. Di chi stiamo parlando? Forse di La Palis? No, semplicemente sono parole in musica di Guido Pagliuca. L'allenatore della Lucchese, beninteso responsabile tecnico, sembra arrendersi di fronte all'evidenza e all'incapacità della sua squadra di costruire qualcosa di concreto. Bella, a tratti con gioco spumeggiante arioso, ma terribilmente sterile, in modo ormai quasi sistematico. Anche al Bonolis di Teramo il cliché non è cambiato, preso il gol che abbiamo visto, Colette e compagni hanno preso in mano la partita, con un netto dominio territoriale, soprattutto nella ripresa, che però non ha portato al meritato pareggio. Siccome il calcio non è scienza esatta ed anzi è tutto forché qualcosa di complicato, come da tempo vogliono farci credere, i tre punti se li porta a casa al Teramo. I numeri sono impietosi, la Lucchese non vince da due mesi e mezzo e salvo rare occasioni, vedi il 3-3 con Limolese, fa una fatica enorme a trovare la via del gol, che fino a prova contraria è la mission e l'essenza di questo bellissimo gioco. Ne consegue che la classifica, tanto bella e incoraggiante la sera del 21 novembre, dopo la vittoria sul Siena, adesso comincia a farsi preoccupante anche perché la zona play-out dista solo 5 punti. Tanti, pochi, fate voi. Di sicuro, se la Lucchese non tornerà di lannellare qualche vittoria, la situazione rischia davvero di complicarsi. E allora guardare avanti rimane l'unica cosa da fare. La prospettiva a breve termine si chiama Modena, che domenica calerà a Lucca, rinvigorito da prospettive di bie da vicende e di stadio Braglia, che ne avallano un futuro roseo. Quello che di qua dall'Appennino, ovvero nella città delle Mura, non si può dire altrettanto. Pagliuca ha un'altra settimana di tempo per affinare qualcosa che non riesce ad entrare negli ingranaggi di questa Lucchese. Sappiamo che il lavoro di preparazione viene fatto in modo incomiabile da parte di tutto lo staff tecnico, ma poi la domenica, al momento del compito in classe, gli alunni non lo svolgono nel migliore dei modi. Manca sempre qualcosa, che è fatto 30 e non riesce a fare 31. Lucchese 2022, una sorta di Penelope che tesse la tela e poi la disfà per la disperazione dei suoi tifosi. Scendiamo in eccellenza nel recupero di Lastra Signa, prima sconfitta stagionale della capolista Tau Alto Passo. Prima sconfitta stagionale del Tau Alto Passo, vince di misura la Lastrigiana che si porta a meno tre dalla capolista. Allo stadio La Guardiana finalmente si gioca, una partita già rinviata due volte. Gara importante che il Tau approccia nel modo giusto e col debutto di Granito che ci prova subito dalla distanza. Buona circolazione di palla della formazione di Cristiani che gioca da leader. Si fanno vedere anche i biancorossi con Calonaci che lancia lo scattante Bianchi, ma il portiere di Biagio esce in modo sicuro. Replica Alto Pascese al 26 su calcio d'angolo dalla sinistra, Quilici colpisce al volo mandando però la palla lontano dai pali. La posta in palo è importante, la gara è tattica, più vivace il match nella ripresa. Il Tau parte forte, nel giro di pochi minuti sfiora a ripetizione il vantaggio, prima con Doveri che di testa fa venire brividi a Fedele, la palla esce da un soffio, poi Anzillotti prova la conclusione da fuori area e per ultimo ancora Doveri con una rovesciata in stile Carletto Parola delle figurine Panini che esce di poco. Scampato il pericolo la Lastrigiana si scuote e al 66 si porta in vantaggio. Alecce batte un corner calibrato, Bianchi sceglie il tempo di battuta al volo e seppur strattonato mette alle spalle di Di Biagio per la rete dell'1-0, ottavo centro stagionale del bomber Lastrigiano. Maltau è formazione di carattere, di notevole caratura tecnica e si getta in avanti. La migliore occasione è quella più ghiotta alla mezz'ora, Fedele sbaglia il tempo in uscita e Mengali si trova alla porta spalancata ma per la paura di essere recuperato affretta la conclusione e Calona c'è la disperata, respinge sulla linea. Nel finale i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Del Pela per un fallo su Mancini. Il tau adesso è tutto proteso in avanti ma in un paio d'occasioni rischia in contropiede. Ben sette minuti di recupero ma il generoso forcing degli Amaranto non sortisce alcun effetto. Vince 1-0 la Lastrigiana e il campionato adesso è riaperto. Il basket, il campionato di Cigold maschile, la storia si ripete dopo la mala sconfitta con Lerons Montecatini. La situazione si è ripetuta di nuovo in trasferta per il Basketball Club Lucca contro l'Olimpia Legnaia dove la squadra lucchese è uscita sconfitta 70-67 da segnalare i 17 punti di Benini e i 12 di Lippi. La partita contro Legnaia poteva essere l'occasione per incamerare due punti in più ed invece è stata sprecata a causa di un pessimo avvio di partita. Dopo due anni di sospensione causa Covid, il Cefa Basket Castelnuovo si sta muovendo per organizzare la 29esima edizione del Torneo Internazionale di Mini Basket, da sempre fiore all'occhiello della società del presidente Vincenzo Sufredini. Vista la situazione non verrà effettuata la fase regionale, la fase internazionale sarà posticipata dal 3 al 5 giugno. 16 le squadre che parteciperanno, 4 squadre provenienti dall'estero, vi ricordo che nel 2019 vinse lo Zadar, la squadra croata, 6 squadre toscane e 6 provenienti da altre regioni d'Italia. Il tennis Tatiana Pieri accede al tabellone principale del torneo di Porto in Portogallo. La 22enne tenista lucchese ha battuto 6-4-6-1 la slovacca Esder Meri in una partita che consente a Tatiana di accedere al main draw della manifestazione lusitana. Da martedì Tatiana sarà impegnata nei sedicesimi di finale. Stato presentato ufficialmente, siamo ai motori, il 38esimo rally del Carnevale che si disputerà domenica prossima. Tutto pronto per la 38esima edizione del rally del Carnevale che prenderà il via sabato 12 febbraio e che è stata presentata dal direttore di Acilucca, Luca Sangiorgio, dal vicepresidente del club lucchese, Mario Lenci, dagli amministratori dei comuni attraversati dal percorso, ovvero Viareggio, Camaiore, Massarosa e Pescaglia e dai rappresentanti di Laserprom 015. Per quanto riguarda la logistica e il programma, la direzione gara, la segreteria, il centro classifiche e la sala dei commissari sportivi saranno all'hotel Bixio di Lido di Camaiore. Il centro accrediti a Massarosa, così come anche il parco assistenza che troverà spazio in via del Brentino. Infine i riordini si terranno alla Conad di Massarosa. Anche Viareggio avrà la sua sfilata in occasione dei controlli a timbro organizzati in piazza Maria Luisa. Pescaglia invece sarà interessata dal passaggio di una delle prove speciali. Siamo contenti di coinvolgere attivamente il comune di Viareggio perché la manifestazione comunque fa parte dei festeggiamenti anche del Carnevale. E poi coinvolge anche gli altri comuni della Versilia, Massarosa, partenza e arrivo a Massarosa e poi abbiamo anche Pescaglia e Camaiore attivamente coinvolti. È comunque un coinvolgimento, ripeto, a 360 gradi di questo territorio che è ricco di tradizioni appunto sportiva. È creato un hobby club e naturalmente vuole far rivivere in questo contesto. Sabato 12 consegna dei documenti e dei materiali necessari per la competizione e shakedown dalle 13.45 alle 16.45. Domenica 13 febbraio si corre a partire dalle 8 con partenza e arrivo in piazza Provenzale a Massarosa. Oltre 50 km di prove speciali tra Loppeglia, Stiave e Orbicciano. Il rientro della prima macchina è previsto sempre a Massarosa intorno alle 18.42 con la pubblicazione della classifica alle 20 dalla direzione di gara. Io mi fermo qui per il momento. Vi ringrazio. Dopo una breve pausa il Tg prosegue con la terza ed ultima parte.